Io sono Kevin Cortella e tu stai ascoltando Future Presente, il podcast dove un episodio alla volta, scoprirai come la sua prima puntata potrebbe anche essere l'ultima. Carissimi futuri lettori e future lettrici, presenti ascoltatori e presenti ascoltatrici, bentornati e bentornate a Future Presente. Date un occhio al calendario, loggete oggi che santo o santa sia e poi tornate qua. Fatto? Direbbe Giovanni Mucciaccia. Bravi, bravi. Oggi è Santa Lucia e sono convinto che per molti di voi questo non significherà nulla perché Santa Lucia è una tradizione solamente in alcune parti d'Italia, tipicamente qui al nord. A Storo, qui in Trentino, è qualcosa di molto, molto sentito e che, devo ammettere, sta un po' scemando negli anni come tradizione, ma conserva quel fascino che non ho molte parole per spiegare perché è qualcosa che si prova a livello emotivo. Vi spiego. Normalmente, durante il 12, la giornata 12 dicembre, i bambini si recano a casa di nonni, di parenti tutti, per portare un piatto, qui a Storo è un piatto di farina gialla e sale grosso, che sembra essere il cibo dell'asinello di Santa Lucia. Se i bambini si recano dai parenti a portare questa prelibatezza, la teoria vuole che il giorno successivo, al posto di quegli ingredienti, troveranno o dei doni, se si sono comportati o comportate bene durante l'anno, oppure del carbone nel caso il comportamento non sia stato dei più idilliaci. Una volta fatto questo, la regola dice andare a dormire presto. Voi immaginatevi, da bambini e bambine, avere questa pressione addosso, questa eccitazione, questa attesa, il portare i piatti, il tornare a casa, l'andare a dormire sapendo che durante la notte, tra il 12 e il 13, questa Santa Lucia, una cieca a bordo di questo asinello, sarebbe passata di in casa in casa e avrebbe deciso cosa lasciare in quei piatti con il vostro nome, perché ogni piatto porta il nome della persona che l'ha depositato, perché magari a casa di un nonno o di una nonna ci sono, cosa ne so, 5-6 diversi piatti, quindi non vuoi di certo ricevere la bambola che sarebbe destinata a tua sorella o a tua cugina. E allora si lascia il piatto, si lascia il nome e il giorno dopo, magicamente, gli ingredienti sono scomparsi, il nome è rimasto e dietro al nome, nel piatto, si trova ogni ben di Dio, normalmente dolci, frutta, frutta secca e particolarmente appunto regali. È un giorno che ha sempre un valore molto speciale per me, perché rievoco con la memoria tutto quello che è stato, tutto quello che ha significato per me Santa Lucia. E trovo che sia qualcosa di meraviglioso, una tradizione che di certo porterò avanti quando io stesso avrò una famiglia, e quindi l'augurio che voglio farvi oggi è che sia per voi una giornata tanto magica quanto lo è questo lunedì 13 dicembre per me. Quando atterro in Alaska è il 29 settembre e nella mia testa ci sono tanti, tantissimi interrogativi. Sarebbe stata la prima volta per me a fare couch surfing. Per chi non lo sapesse, e credo siano ancora in molti, sia a non saperlo, sia a non praticarlo. Vi spiego brevemente che cos'è couch surfing. Letteralmente significa fare surf a bordo di un divano e nella pratica reale significa andare a dormire su di un divano, normalmente o comunque su di un letto o su di una superficie, diciamo più in generale così, piana, a casa di sconosciuti o sconosciute. Ci sono persone nel mondo, e sono tante, che sono iscritte a quella che è una piattaforma, un sito internet ed anche un'applicazione, dicendo, ascolta, couch surfing, io possiedo una stanza degli ospiti vuota oppure un divano letto o comunque possiedo uno spazio che può essere adibito ad ospitare qualche viaggiatore che ha bisogno. Non voglio niente in cambio, non voglio soldi, non voglio nulla, voglio solo che la persona venga a casa mia e si senta a casa propria. Questo è couch surfing. Perciò io, prima di partire per l'Alaska, decido essere giunto al momento di sperimentare quel qualcosa che avevo già sentito da parecchi anni nominare. Ero in Finlandia quando sentii per la prima volta parlare di couch surfing, ma mi sembrava così impossibile pensare che ci potessero essere persone nel mondo disposte ad accoglierti a gratis, a casa propria, senza alcun secondo fine. E quindi fino a quel momento non avevo mai avuto la voglia di andare oltre quelle colonne d'ercole nella mia mente. Ma l'Alaska, l'Alaska mi sembra il momento adatto per vincere tutti quei pregiudizi per provare a cambiare me stesso e il mio modo di vedere il mondo. Mi iscrivo all'applicazione, faccio una breve ricerca tra le centinaia di host, così si chiamano i padroni di casa, gli host di Anchorage in Alaska, e scopro Theodore. Theodore possiede centinaia di recensioni positive e mi incoraggia a sperimentare con lui questa nuova pratica, questa nuova tipologia di viaggio. E quando arrivo ad Anchorage, lui è là, come promesso all'aeroporto, sorridente come non mai. Mi accompagna a casa, iniziamo un po' a chiacchierare, ma non mi lascia neanche il tempo di mettere a posto le mie cose che già siamo in viaggio. Già siamo diretti verso una sorpresa. La sorpresa però ce l'ho io, sulla strada verso questo posto magico. Accanto alla strada, un gigantesco, o una gigantesca, non lo so di che sesso fosse, Alce sta mangiucchiando proprio lì in parte la carreggiata. E io sono esterrefatto, sono basito, sono eccitato, non ce la faccio più a tenere un po' di paura, un po' di quello che si dice, no? Theodore invece manco degna quell'animale di attenzione. Continua a guidare, tranquillo. E quando lo interrogo su questo aplomb, su questo perfetto autocontrollo, mi dice cosa c'è di strano. È un Alce. E poco più avanti, quando parcheggiamo, mi indica un cartello in cui sta scritto che ad Anchorage, orsi, alci, linci e animali e animali tutti, sono non solo i benvenuti, ma sono i primi abitanti di quel posto e in quanto tali, hanno il diritto di rimanere lì liberi. Il che significa che non è affatto raro, anzi direi più che cronaca di tutti i giorni, trovare sul giornale notizie di persone che hanno trovato uno di questi animali nel cortile di casa, piuttosto che ricordo una volta la notizia di questo gigantesco maschio d'Alce che camminava sull'autostrada con la coda di macchina alle proprie spalle tutti lì tranquilli, zitti, zitti a non disturbare l'animale. E penso a quanto sia diverso quel posto, a quanto sia selvaggio quel luogo rispetto a, per esempio, qui a Store, qui in Trentino, dove l'orso, dove i lupi, dove gli animali selvatici trovano grosse difficoltà ad essere accettati dall'uomo perché ormai l'uomo ha messo piede ovunque non tollera che ci sia questa presenza altra. Quelli però sono solo alcuni degli animali che avrei incontrato in Alaska e quelli sono animali vivi perché la sorpresa che Theodore mi stava per mostrare è un esemplare di balena che purtroppo si era arenata sulle spiagge di Anchorage qualche giorno prima. Il che significa che nelle mie prime ore di permanenza in Alaska vedo di fila un'alce e una balena. purtroppo uno è vivo l'altra è morta però tutto questo mi cala immediatamente in un mondo diverso non fatto di sesso come cantava Rino Gaetano ma fatto di un senso di adrenalina costante perché uscire di casa non è così scontato come può essere in altri luoghi del pianeta. Lì uscire di casa è sempre una scommessa non sai mai né se tornerai a casa perché chissà mai cosa incontri nelle tue camminate né per l'appunto cosa potrebbe capitare quindi dentro di me cresce questa emozione un'emozione che diventa ancora più forte quando torniamo a casa di Theodore e scopro che sono il centoventesimo couch surfer perché couch surfer è la persona che fa couch surfing quindi io per Theodore ero il centoventesimo in un anno la centoventesima persona che ospitava a gratis a casa propria gli domando perché cosa lo spingo a fare tutto ciò e molto semplicemente mi risponde io non posso io non riesco a viaggiare per via della mia vita del mio lavoro quindi faccio sì che sia il mondo a venire a casa mia e la conferma che non menta affatto ce l'ho il giorno successivo quando in quella stessa casa in quello stesso salotto dove io dormo su un divano arrivano altri due viaggiatori uno sull'altro divano e uno dorme per terra durante quei quattro giorni che trascorro a casa di Theodore condividiamo cibo condividiamo racconti condividiamo esperienze perché lui mi fa da guida porta me e gli altri viaggiatori a scoprire per esempio il lago Eklutna e molte altre bellezze dei dintorni e il tutto senza esigere un centesimo in cambio ciò che si esige quando si fa couchsurfing è l'apertura mentale la disponibilità a raccontare a condividere le proprie esperienze di vita è chiaro che se una persona fa couchsurfing con l'unico obiettivo di poter dormire a gratis non sarà ben accetta in quella casa perché per quanto non sia esplicitamente richiesto nulla è implicitamente richiesto che ci si rapporti gli un con gli altri che ci si aiuti che si cucini assieme una sera sono io a mostrarti un mio piatto tipico e una sera sei tu a cucinarne uno tuo e tutto questo mi convince che sì couchsurfing d'ora in avanti sarebbe stata la mia principale modalità di viaggio e dato che quando prometto qualcosa normalmente lo rispetto poche settimane dopo sono Seward nella penisola di Kenai in Alaska presso un altro couchsurfing che si dimostra però molto diverso da quello che era stato Theodore perché se Theodore era stato espansivo aveva condiviso con me e con gli altri tutto quello che poteva in questo caso sono ospite di Kelly è piuttosto fredda è piuttosto silenziosa è piuttosto distaccata rispetto a Theodore e quindi capisco un'altra cosa che couchsurfing significa anche sensibilità significa rendersi conto di quello che ogni persona che hai davanti è e quindi rapportarsi in maniera diversa a seconda di con chi ti trovi a vivere l'esperienza di Seward la ricordo particolarmente per l'abitazione perché quando arrivo mi viene indicato il divano di casa ma mi viene anche fatto notare come disti circa 50 centimetri dalla porta della camera da letto in cui avrebbero dormito Kelly e il marito un marito che mi viene detto essere un russatore seriale e di conseguenza mi viene offerto o quel divano oppure posso andare a dormire nella casa in giardino una casetta in costruzione senza isolamento termico senza riscaldamento molto ancora rudimentale però ai miei occhi è perfetta agli occhi di chi era in Alaska per provare una vita selvaggia quello è l'ambiente selvaggio per antonomasia ma c'è un piccolo ma Kelly mi fa notare che nel caso io abbia bisogno di andare al bagno bagno che mancava nella casetta sarei dovuto andare all'esterno ma avrei dovuto fare molta attenzione perché quella era una zona di caccia non dell'uomo verso gli animali ma degli animali verso l'uomo nel senso che era una zona molto popolata da orsi e quindi era necessaria un po' di cautela se fossi andato al bagno di notte va bene che ero in Alaska per sperimentare la vita selvaggia però quello forse è un attimo eccessivo quindi senza dire niente a nessuno lo ammetto mi assumo le mie colpe prendo in prestito senza chiederlo quindi sostanzialmente rubo da quella casa un bicchiere piuttosto capiente in cui avrei orinato per le successive tre notti per poi svuotare al mattino il contenuto della mia vescica a conferma di quanto Kelly avesse ragione vi vorrei leggere il cartello che stava proprio a pochi passi da casa mia e dove veniva descritto il comportamento da tenere nel caso ci fosse stato un attacco o di un alce o di un orso nel caso di un orso viene distinto tra orso bruno quindi tra un grizzly e un orso nero il cartello dice così se vedi un orso non avvicinarti parlagli e retrocedi lentamente non girarti e correre ovviamente il passato successivo è se l'orso carica perché l'orso non so se lo sapete ha questa tendenza prima di attaccare a caricare a spaventare